Raccontare oltre mezzo secolo di storia dei linguaggi creativi attraverso il lavoro di 40 artisti italiani del dopoguerra. A Monte San Savino, nelle storiche e successive sedie del Cassero e delle loggie dei mercanti, si potrà così visitare la mostra In Motto Andare, la coscienza dell'immagine nell'Italia postmoderna. Si parte dalla poesia, si parte dall'aspetto letterario, si parte dal titolo rubato a Montale che dovrebbe esprimere o aiutare ad esprimere un percorso, un procedere che tende al progresso ma attraverso una dimensione di problematicità, di difficoltà. Questa difficoltà è stata, secondo me, il rapporto col classico, quindi con la bellezza, col valore, con la qualità che da duemila anni e poi da duemila anni fa, poi attraverso il Rinascimento, poi attraverso il Barocco, ci ha aiutato a diventare italiani, così come siamo oggi. Ovviamente ci ha aiutato ad essere questo con tutti i limiti di questo, perché oggi riferirci all'aspetto contemporaneo, prescindendo da quello classico, è un problema, un problema che gli altri paesi non hanno, che gli americani non conoscono e che gli orientali hanno risolto assolutamente in maniera diversa. La mostra vuol così trattare, evidenziare e padroneggiare la questione tutta italiana del linguaggio artistico moderno che diviene contemporaneo. L'arte dei nostri tempi è difficile come la vita dei nostri tempi, quindi non è né facile né divertente. Bisogna dire però che è un'arte che è una finestra a doppia sul mondo e su noi stessi, sull'estrospezione, cioè sullo studio di quello che ci circonda, ma soprattutto sullo studio di noi stessi. Ed è molto bello che in una città dalle grandi tradizioni storiche come Monte San Savino, una città che ha dato papi, grandi artisti, una città che conserva vestigie perfette come questo palazzo e la loggia di fronte, oggi si riapra al respiro contemporaneo dell'arte con tutte le sue grida di dolore, con tutti i suoi sussulti di piacere. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 19 giugno. Ritengo che questo grande evento legato all'arte contemporanea, quindi alla creatività, alla bellezza, possa essere un mezzo proprio per darci la forza di traghettare questo momento così particolare e così difficile.